Riaccende il fronte Notav in Val di Susa, 25 identificati per i lanci di petardi contro il cantiere di Chiomonte ieri sera, oggi manifestazione dello stesso gruppo al confine del Mon Ginevro contro la frontiera e a favore dei migranti. C'era per noi Francesca Nacini. Sono arrivati fin lì, fino a pochi metri dagli scudi dei gendarmi francesi schierati al confine del Mon Ginevro. Proclami al megafono striscioni. Poi la tensione si è sciolta e i manifestanti hanno aggirato il blocco, varcando comunque la frontiera attraverso i sentieri montani. Si è conclusa così, pacificamente, la manifestazione No Border a favore dei migranti di circa 100 attrattivisti Notav e antagonisti del centro sociale torinese a Scatasuna. In una claviera in festa per il carnevale d'estate non si sono dunque ripetuti gli incidenti che lo stesso gruppo, da qualche giorno di nuovo in presidio a Venaus, ha causato nelle notti di venerdì e sabato nei pressi del cantiere dell'alta velocità Chiomonte, riaccendendo anche la polemica politica sulla Tav. Lanci di petardi cui le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni, fino all'identificazione di 25 persone. La manifestazione al confine si è consumata in un clima più festoso e nonostante la spaccatura interna al fronte pro-migranti. È netta infatti la presa di distanza degli attivisti che dalla primavera scorsa occupano i locali parrocchiali sotto la chiesa di Clavier. Basso profilo per loro, che intendono rimanere ancora a lungo, a pochi passi dal confine cui hanno dichiarato guerra.